Musica Anche la comunità dal punto di vista religioso sta vivendo questi appuntamenti per ricordare questa data importante del bicentenario del comune di Bianchi. Dal mese di gennaio scorso tante sono le iniziative proposte anche dal nostro oratorio interparrocchiale per ricordare questo evento che non vuole essere per noi soltanto un punto d'arrivo ma soprattutto deve essere un trampolino di lancio per il futuro. Soprattutto ci stiamo soffermando e stiamo lavorando in questa occasione prendendo spunto dalla Costituzione italiana perché tanti devono essere per noi le occasioni e i punti su cui lavorare da oggi in poi per questo comune. Un comune che sicuramente ha tante ricchezze e tante potenzialità ma d'altra parte ha anche tante difficoltà da affrontare e da vivere con serenità. Ci auguriamo quindi che questo evento che stiamo celebrando sia per tutto un'occasione soprattutto per riunire il paese, fare del paese un punto di aggregazione in questa valle del Savuto. Un momento bello per vivere da famiglia. Un momento bello per vivere da famiglia.